Chi l'ha detto che di mamma ce n'è una sola? Di mamme ce ne sono un sacco di tipi. C'è la ragazza madre, impegnata a dividersi tra libri di scuola e pannolini. O c'è chi è costretta a nascondere la sua gravidanza con amici, genitori e persino fidanzati. Due programmi vi faranno assistere a casi insoliti di maternità e scoprire che a volte la vita va affrontata di pancia, anzi, di pancione. Mamma Mia! Da lunedì a venerdì alle 8.15 su Real Time. Grazie a tutti.